ciao a tutti da gialluca roncato e grazie per il premio mi rivedo bambino quando stavo tante ore davanti a questa scatola magica che trasmettevo immagini in bianco e nero questa scatola chiamata televisione e avevo un sogno quello di entrarci dentro di partecipare un programma televisivo questo sogno lo realizzò le grande mai buongiorno che ho sempre dentro il mio cuore poi volevo ringraziare un gruppo di artisti a nino frassica che mi ha insegnato la comicità a fare l'imitatore e richiamato in diversi suoi progetti a malendrino e veronica che a bologna mi chiamano spesso nei loro spettacoli ai fratelli manetti che hanno creato il personaggio del commissario buzzini in cogliandro che mi ha dato tantissimo successo a pupia vati che mi ha chiamato in diversi suoi film a daniela iroldi che ha creduto in me in uno spettacolo e mi lanciò come imitatore a marco dondarini che in un periodo difficile della mia vita mi fece collaborare con lui in radio grazie 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 anche al mio splendido gruppo della janji production mi hanno fatto delle imprese in radio in televisione donne in scena che ha avuto 11 sold out tutto capitanato dal grandissimo maurizio grano grazie grazie a francesco fiumarella autore direttore del premio crocitto international per avermi onorato di questo premio di aver creduto in me grazie come artista emergente sì perché io 55 anni però una persona a 50 anni può ancora emergere può ancora andare avanti quindi noi dobbiamo crederci crederci sempre questo deve essere un segnale perché si ritiene a 50 55 anni un artista finito mai mai e poi mai crederci crederci sempre e grazie a voi del pubblico senza il pubblico l'artista non esisterebbe un abbraccio da giallucano